Siamo a Forlì questa sera per l'assemblea annuale di CNA Forlì Centro. Presidente, stasera l'assemblea di CNA Forlì Città, che cosa dite agli associati? Il titolo, la CNA, siamo noi già mette bene in evidenza la natura di questa assemblea. Vogliamo riconfermare con forza il valore della rappresentanza partecipata. Noi stasera ascolteremo gli associati, chiederemo loro di costruire insieme a noi un contenitore di idee e di proposte, sulle quali lavorare fin da subito, fin già da domani, per renderle poi concrete. La rappresentanza parte proprio da qui, dall'ascolto e dal dialogo. Una rappresentanza è forte quando è utile, è forte quando è partecipata, quando è condivisa e sostenuta dagli associati nei valori e negli orientamenti. È forte quando è dinamica, attuale, connessa sia al quotidiano che al cambiamento. Per noi rappresentare significa sempre di più oggi, come non mai, essere in contatto diretto, forte, empatico con i propri rappresentati. E questa assemblea può essere considerata come la chiusura ideale del cerchio di quest'anno così importante e intenso per la CNA di Forlì. Ci siamo dati degli obiettivi importanti, mettere al centro il mondo dell'artigianato e dell'impresa, farne conoscere e riconoscere il valore, soprattutto sociale all'esterno, recuperare il noi concretamente nei termini della pluralità e dell'unione, una comunità costituita da tante diversità che riescono a stare insieme a creare benessere comune e nuove prospettive. Poi abbiamo voluto rendere concreti questi nostri obiettivi, mettendo in campo tante attività e tanti progetti. Ne cito qualcuno. Il CNA Day con la premiazione degli associati senior e junior, la partecipazione alla Notte Verde, i progetti con le scuole, i focus della meccanica e della nautica, organizzati insieme alla CNA dell'area Colline Forlivesi. Noi riteniamo che questa assemblea sia veramente un'opportunità straordinaria per condividere un percorso, un nuovo percorso, decidere cosa fare da domani tutti insieme. Chi accusa le difficoltà maggiori in questo periodo e chi invece se la cava meglio? Sì, diciamo chi se la cava meglio, perché chi se la cava proprio ancora non c'è. Diciamo che la crisi rimane e è una crisi generale che in qualche modo ancora colpisce un po' tutti i settori. Sicuramente ci sono settori che ancora veramente non vedono nemmeno la luce in fondo al tunnel e sono settori abbastanza noti, l'edilizia in primis, ma anche l'autotrasporto sicuramente sta attraversando ancora un periodo non meno grave rispetto a uno o due anni fa. Altri settori invece vedono qualche segnale di ripresa. Qualche segnale di ripresa, soprattutto per quanto riguarda il discorso della meccanica, che è un settore su cui in qualche modo c'è una certa attività in più. La nautica, che è un settore su cui ci sono stati anche investimenti importanti da parte dei capofila, perché questo va detto per quanto riguarda le imprese di CNA, stiamo parlando soprattutto di aziende terziste della filiera, sia della meccanica che della nautica, per cui è ovvio che traggono un giovamento anche proprio da un'immissione di domanda da parte dei grandi committenti. Tiene in qualche modo l'alimentare, tengono in qualche modo i servizi, sicuramente non ci sono in nessun settore segnali che in qualche modo ci facciano veramente gioire. Questo va sicuramente detto. Cosa facciamo? A noi stiamo pensando a misure che vadano ad agevolare soprattutto i giovani, quelli che magari hanno in mente di intraprendere un'attività e in una situazione come questa non ne trovano il coraggio perché magari ci sono ostacoli dal punto di vista del credito, dal punto di vista dell'avvio dell'attività. Grazie a tutti.